Ciao a Gossip News! Come è stato? Difficile, ma c'è stato qualcuno che ha bloccato la strada per farmi guidare bene, quindi è andata bene. Tu invece ce l'avevi già lavorato? Sì, io devo dire che grazie a questi enormi successi mi sono comprato uno yacht, un palazzo. Questa villa è tua? Sì, questa villa è mia, come potete vedere, la sto ristrutturando, però basta dire stupidaggine. Tu hai provato a fare da passeggero nella macchina guidata da lei? Sì, devo dire che è stato un onore. Addirittura? Addirittura sì. Peccato che stava attaccato alla maniglia tipo Massimo Troese e gridava Vai piano, vai piano, vai piano! Sei spericolata? Un po', diciamo che il cambio è stato un po' complicato da gestire, però adesso me la capo bene. Però alla fine sì, 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 no, 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 va benissimo. Tu invece sei spericolata? Io? Lei dice di sì. Io dico di nì. No, non ti dico per arrivare qua alla corsa che ha fatto, cioè 100 all'ora in continuazione nel centro abitato. Allora. Allora.